Cucinare è un atto di puro amore. Cuciniamo per le persone che amiamo, ma se usiamo gli strumenti sbagliati, rischiamo di danneggiare lentamente chi amiamo. Con Magic Cooker, invece, puoi prenderti cura della tua famiglia e dei tuoi amici con la massima sicurezza. Scopri di più su come questo strumento innovativo può aiutarti a cucinare in modo sano e delizioso. Magic Cooker, il coperchio più venduto al mondo. Magic Cooker